Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontable.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale consultare il sito certificati.fontable.com. è una strategia che va sul Nasdaq 100, va in direzione ribassista. Io dicevo che l'altro giorno avevo già segnalato a Pietro la possibilità di andare short, ma perché vi era un rapporto rischio rendimento molto congruo. Diciamo che la certificazione è stata avuta ieri con il cedimento di questi supporti dinamici. Io non riesco ora ad entrare a mercato. Penso che il target più naturale siano i minimi del agosto del 2023, almeno quelli, e lo vedete in modo chiaramente da questa linea di supporto. Dove mi sono andato a posizionare? Per questo ho utilizzato ovviamente l'ipotesi di un rimbalzo e quindi mi sono messo in prossimità dei 15.48 punti, uno stop sopra i 15.485, il target 14.870, sostanzialmente, guardate ve lo faccio vedere, lo stop è sopra qui, sopra quest'area di lateralità che da venerdì sostanzialmente a ieri aveva caratterizzato le quotazioni all'ingresso short e su questi minimi del 19 di settembre. Si poteva scegliere il 2.48 piuttosto che il 2.51, tutto l'intervallo lì, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 andava bene. È stato più aggressivo per voler entrare. Evidentemente va bene anche short, si ritorna a 3.20 per intenderci che poi non sarebbe null'altro che il pullback di questa trend line, io l'ho messa così perché vorrei puntare a questi minimi qui. Questa è la strategia Pietro. Grazie a tutti.